Guardate la distribuzione di navigatori in internet nel mondo, è molto interessante. Non vi devo spiegare, basta saper leggere i numeri. Guardate le differenze, Europa 415 milioni, Africa 111, è in atto un digital divide. Qui parliamo dei cattolici, anche qui non ho bisogno di dirvi la distribuzione sul mondo. Questa è la crescita nella banda larga, non so come si dica in ucraina. Se è il risultato, dopo è il risultato, è l'uso della banda larga per trasmettere dati. Guardate lì, il mondo è la linea azzurra, la linea centrale è quella del mondo sviluppato e guardate il mondo in via di sviluppo. Siamo ai dati del 2011. Guardate le lingue, è molto interessante. La prima lingua parlata è l'inglese. La seconda lingua è il cinese. Poi c'è lo spagnolo. Poi il giapponese. Portoghese. Portoghese. Portoghese, giannetska, arabska. Ma la prima lingua è l'inglese. Guardatevi l'abbonamento al cellulare. come è cresciuto negli anni qui prendiamo in considerazione solamente cinque anni il 90% della popolazione mondiale è coperta da un segnale mobile ci sono 5,3 miliardi di telefoni in circolazione nel 2011 si sono vendute 60 milioni dei tablet ma la cosa interessante è che si prevede nel 2017 250 milioni un'altra domanda come siamo presenti in tutta questa realtà? e c'è un'altra domanda e c'è un'altra domanda e c'è un'altra domanda qui c'è un primo riferimento per aiutarvi a scoprire ma forse lo sapete già che cos'è il web1 e che cos'è il web2 alzi la mano a chi già conosce il web2 il web1 è il web1 il web1 è il web1 e il web2 la gente li legge il web2 vi mostra che c'è una interattività tra colui che produce tra colui che legge e che a sua volta produce tra colui che produce tra colui che legge e che a sua volta produce il mondo si sta muovendo verso il web3 e noi siamo ancora al web1 siamo in ritardo vi faccio vedere la differenza che c'è proprio a questo riguardo 1980 siamo ancora al vecchio web si guardava 1990 la persona diventa actore ed emittente siamo passati da un pubblico passivo a un pubblico activo e mi pericine e mi pericine e mi pericine voi sapete che abbiamo aperto un canale vaticano su youtube oggi il papa è presente in youtube poi abbiamo f sapete che cos'è è facebook la cifra che io presento qui è antica è cambiata già sapete oggi quanti sono coloro che entrano in facebook sono iscritti in facebook abbiamo superato il miliardo di persone poi abbiamo twitter ci sono più di 200 milioni di persone che usano twitter e poi abbiamo l'ultima affermazione che è answers and questions guardate la novità del mondo di oggi guardate guardate cos'era internet e cos'erano i social media guardate guardate Io ho messo una presenza cattolica indispensabile nel mondo digitale. Io ho messo una presenza cattolica indispensabile nel mondo digitale. Questa è una realtà che ci lascia pensosi. Questa è una pagina di Google. E la domanda che abbiamo posto a Google è, chi è Gesù? Voi sapete che quando io vado a cercare una risposta in Google, normalmente guardo le prime dieci risposte. Bene, se io vado a cercare who is Jesus in Google, tra le prime dieci risposte non trovo una risposta cattolica. No, no, un momentino prima. La prima risposta è interessante. troviamo una risposta islamica su chi è Gesù. La domanda è profonda per noi. Non siamo presenti nelle prime dieci. E la prima risposta di una realtà religiosa è quella islamica. Le sfide di un nuovo annuncio nella società digitale. Come siamo sul tempo? L'uomo del tempo è uno di voi. Come andiamo? Andiamo bene? Le sfide di un nuovo annuncio nella società digitale. Qui potremmo andare avanti, interessante. Inculturare il messaggio di salvezza nel mondo di oggi. Inculturare il messaggio di salvezza nel mondo di oggi. La Chiesa non è chiamata soltanto ad usare i media per diffondere il Vangelo. Ma a integrare il messaggio salvifico nella nuova cultura che i potenti strumenti della comunicazione creano ed amplifichano. Non so se ci avete fatto caso. Dobbiamo integrare il messaggio in questa nuova realtà culturale. Questo è Giovanni Paolo II. E questo è Ivan Paolo II. E dice così. La Chiesa avverte che l'uso delle tecniche, delle tecnologie, della comunicazione contemporanea fa parte integrante della propria missione nel terzo millennio. E ciò che vuol dire che io non posso dire... Io uso internet per annunciare il Vangelo. Io uso internet per annunciare il Vangelo. Ma in internet io annuncio il Vangelo. Internet è diventato un ambiente di vita. E in questo nuovo ambiente di vita io devo annunciare il Vangelo. E Giovanni Paolo II mi dice che questo uso, questa presenza fa parte integrante della missione della Chiesa nel terzo millennio. E qui il Papa parla ai giovani. E dice così. Siate impegnati a introdurre nella cultura di questo nuovo ambiente comunicativo e informativo i valori su cui poggia la vostra vita. E ricorda che nei primi tempi della Chiesa Gli Apostoli e i loro discepoli hanno portato la buona novella nel mondo greco-romano. E dice che nel primo momento della Chiesa gli Apostoli e i loro ucini vengono questa buona novella nel mondo greco-romanzo. E come allora era necessaria l'attenta comprensione della cultura dei costumi di quei popoli pagani? Ora l'annuncio di Cristo supone una profondita conoscenza delle nuove tecnologie. E questo è il Papa Benedetto XVI nel 2009. Qui è un tema che per me è molto caro. E tocca come la Chiesa si situa nel mondo oggi. Con il suo annuncio di verità. Perché questa è la sua missione, annunciare la verità. Perché questa è la sua missione, annunciare la verità. Papa Benedetto lo chiama un servizio che essa offre alla società. E Papa Benedetto XVI. I Papa Benedetto XVI. I Papa Benedetto XVI. ha un servizio molto delicato. Perché oggi abbiamo delle società sempre più multiculturali e multireligiose. E Papa Benedetto XVI. E Papa Benedetto XVI. I Papa Benedetto XVI. Dio dice che oggi è necessario avere un servizio di un servizio di dialogo. Io parlerei anche di dialogo rispettoso. io vi chiamavo, io vi chiamavo il nostro servizio di dialogue, io vi chiamavo il nostro servizio di dialogo. rispettoso con tutti. Il Papa mi parla di un dialogo senza ambiguità. Io devo essere ben consapevole di ciò che ho nel mio cuore, rispettoso delle parti in esso coinvolte. Guardate che oggi è una delle tematiche più difficili per la Chiesa. Saper si porre in un dialogo rispettoso con tutti. Perché a volte la tentazione è di chiuderci in se stessi, in noi stessi e non dialogare con nessuno. Se io oggi potessi dire che messaggio posso lasciarti con la mia venuta qui a Leopoli, quando, io думаю, який messaggio, який послання, я думаю, сьогодні залишити тут, у L'Augurio che nella vita sappiate dialogare rispettosamente con tutti. senza ambiguità, senza relativismo. Pensate a voi in questo momento al vostro paese. Pensate ai problemi che avete e metteteli a confronto con questa parola di Papa Benedetto XVI. costruire una cittadinanza fondata sui diritti umani e le responsabilità dei cittadini. budovati, che è basato sui diritti umani e le responsabilità dei cittadini. Indipendentemente dalla loro origine etnica e appartenenza politica. e, in un'esercizionale, i diritti umani e le responsabilità dei cittadini. rispettosa delle credenze religiose costatata la diversità culturale, bisogna far sì che le persone non solo accettino l'esistenza della cultura dell'altro, ma aspirino anche a venire arricchite da essa e ad offrirle ciò che si possiede di bene, di vero e di bello. Ed. 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 che vuole essere così, per cui le persone non solo si trattavano come i miei, che hanno un certo punto di comprensione e comprensione delle persone, ma anche si è permesso di poter creare qualcosa di più di loro, ma anche se si è permesso di dare loro e di farlo di loro. Vi confesso che la mia visita qui tra voi varrebbe la pena solamente per ricordare questo passaggio di un discorso di Papa Benedetto XVI. Perché alle volte la tendenza è che siamo talmente chiusi in noi stessi che tutti gli altri li guardiamo sempre così. Il Papa mi dice che invece devo pensare anche ad arricchirmi con ciò che gli altri mi possono offrire. Io vorrei solamente lasciare a voi sempre un pensiero legato a Papa Benedetto dove dovremo imparare pian piano a sapere, suscitare sogni e speranze. Io dico molte volte che una delle malattie principali di questo secolo è che l'uomo non ha più speranza e non sa più sognare. Io vorrei sapere che l'uomo non ha più speranza e non ha più speranza e non ha più speranza. Se voi mi domandate cosa deve fare la Chiesa oggi nella sua comunicazione, io dico che dovrebbe annunciare Gesù Cristo e aiutare l'uomo di oggi a sognare e a sperare. E qui il Papa, solamente ve lo faccio come accenno, parla a una pastorale nel mondo digitale. E qui si rivolge particolarmente ai sacerdoti. Perché ricordano che nella loro attività pastorale è da prendere in considerazione anche il mondo digitale. E perché dicono che la loro attività e la loro attività dovrebbero avere un'idea in cifra. Io vorrei, passiamo avanti, vorrei terminare lasciandovi una icona biblica. Ancora? 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 Se non è troppo lungo. Eccola qui. E' un'icona biblica legata a un episodio degli Atti degli Apostoli, capitolo 8. E' un episodio degli Apostoli, versetto 26-39. I sacerdoti presenti sanno benissimo che cosa mi riferisco. E' l'incontro del diacono Filippo con l'eunuco della regina Candace. Per me oggi è l'atteggiamento che la Chiesa dovrebbe avere camminando con l'uomo oggi. Andate bello a rileggere questo testo. Si dice che quest'uomo camminava in una strada deserta. E la situazione molte volte è dell'uomo di oggi che è solo nel cammino. E' una cosa strana. Abbiamo strumenti di comunicazione molto sofisticati. E mai come oggi l'uomo si è sentito solo. E quest'uomo sta leggendo sul suo carro un brano del profeta Isaia. Filippo si avvicina e cammina accanto a quest'uomo. E Filippo si avvicinato a quest'uomo. e cominciamo a parlare. E ascoltare. E oggi sto facendo un discorso non corretto. Sto parlando troppo. Avrei bisogno di ascoltarvi. Ma io ho bisogno di ascoltarvi. Filippo in questo caso ascolta quest'uomo. Nella nostra comunicazione abbiamo bisogno di ascoltare ciò che l'uomo porta nel proprio cuore. E poi instaura un dialogo con quest'uomo. E Filippo domanda a quest'uomo. Capisci ciò che stai leggendo? E l'uomo risponde. Come posso capire se nessuno me lo spiega? Questa è la nostra vocazione, amici. E' la nostra vocazione, amici. Avvicinarci all'uomo che cammina nel mondo di oggi. E aiutarlo a capire ciò che porta nel proprio cuore. E vedere come Gesù Cristo è la risposta ai problemi della sua vita. Vi lascio alla fine del nostro incontro questa icona biblica. perché ciascuno di voi nel cammino della vita possa sempre confrontarsi con il diacono Filippo. E vedrai che misura sa aiutare l'uomo di oggi a riscoprire la presenza di Gesù nella sua vita. Perché questa per noi è comunicazione nella Chiesa oggi. perché questa per noi è la comunità della Chiesa. Grazie. 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 Grazie.